Si sta abbattendo in questi minuti un violento acquazzone su Napoli, e sui comuni a nord del capoluogo partenopeo. La circolazione, nonostante la ridotta presenza di vetture in strada, sta subendo non poche criticità. Per ora, a parte qualche auto in pane in zona circunvallazione esterna, non si registrano danni. Secondo il bollettino meteo diramato in queste ore, le condizioni climatiche peggioreranno nel tardo pomeriggio. Pertanto l'acquazzone potrebbe lasciare spazio a violenti temporali. . 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